seconda lettera ai tessalonicesi seconda lettera ai tessalonicesi capitolo 1 leggiamo dal versetto 3 fino al versetto 12 seconda lettera ai tessalonicesi capitolo 1 dal versetto 3 fino al versetto 12 noi dobbiamo sempre ringraziare dio per voi fratelli come è giusto perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni nelle afflizioni che sopportate questa è una prova del giusto giudizio di dio perché siate riconosciuti degni del regno di dio per il quale anche soffrite poiché è giusto da parte di dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il signore gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono dio e di coloro che non ubbidiscono l'evangelo del nostro signore gesù essi saranno puniti di eterna rovina respinti dalla presenza del signore e dalla gloria della sua potenza quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi affinché il nostro dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio l'opera della vostra fede in modo che il nome del signore gesù sia glorificato in voi e voi in lui secondo la grazia del nostro dio e signore gesù cristo paolo scrive questa seconda lettera ai tessalonicesi poco dopo aver scritto la sua prima lettera a questa chiesa tessalonica una chiesa che paolo aveva fondato insieme a silvano e timodio capiamo attraverso il contenuto che paolo scrive questa lettera in risposta a delle notizie ricevute riguardo a questa chiesa notizie che riguardavano la continua persecuzione che stavano affrontando i credenti a tessalonica notizie che riguardava anche la confusione che c'era in mezzo alla chiesa riguardo ad un falso insegnamento sul giorno del signore e poi notizie anche che riguardavano un atteggiamento disordinato da parte di qualcuno nella chiesa paolo scrive questa lettera con un intento quindi specifico affrontare queste questioni incoraggiare questa chiesa inizia attraverso questi due versetti con questo saluto con questo saluto tipico di paolo introduce se stesso silvano e timodio paolo aveva fondato questa chiesa come ha detto insieme a silvano e timodio e stava scrivendo questa lettera da corinto e silvano e timodio erano presenti con lui ecco perché inserisce loro ed escrive questa chiesa in questa introduzione dicendo che è in cristo e che è in dio padre dio nostro padre e nel signore gesù cristo descrive questa chiesa come una chiesa che è in dio padre e nel signore gesù cristo una chiesa che appartiene a dio a cristo la chiesa è l'insieme di coloro che conoscono cristo e dio sacrificamente l'insieme di coloro che hanno beneficiato della grazia di dio e della pace versetto 2 grazie a voi e pace da dio padre e dal signore gesù cristo saluto che potremmo leggere velocemente ma che ci aiuta a comprendere che cos'è la chiesa e perché la chiesa e l'insieme di coloro che appartengono a cristo in virtù della grazia di dio e di questa riconciliazione con dio ma dal versetto 3 fino al versetto 12 paolo ha un intento che quello di incoraggiare i tessalonicesi questo lungo paragrafo che ho letto paolo desidera incoraggiare questa chiesa e incoraggia in diversi modi inizia con questo ringraziamento versetto 3 versetto 4 di cui abbiamo parlato la scorsa volta questo ringraziamento che troviamo anche nella sua prima lettera ma in questa lettera se ricordate dice noi dobbiamo sempre ringraziare dio per voi fratelli vuole incoraggiare questa chiesa che è perseguitata iniziando dicendo che lui loro devono ringraziare dio per loro dobbiamo ringraziare dio perché la loro crescita per quanto riguarda la fede e l'amore era l'opera di dio era il frutto dell'opera divina questo ringraziamento era dovuto non solo ringraziamento per la loro fede che cresceva il loro amore che abbondava sempre di più ma versetto 4 dice in modo che noi stessi ci gloriamo ci vantiamo di voi nelle chiese di dio non solo ringrazia dio per loro la loro fedeltà perseveranza era grazie all'opera di dio ma paolo si vanta di loro nelle chiese di dio un vanto che non è certamente carnale un vanto che riguarda questa gioia di paolo silvano e timotio a motivo della fedeltà di questa chiesa in mezzo a quelle persecuzioni dice a motivo della vostra costanza ovvero perseveranza e fede fiducia in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate paolo gioisce per la fedeltà di questa chiesa e ne parla alle altre chiese questa chiesa era un esempio per le altre chiese paolo tra l'altro si trovava a corinto una chiesa che aveva qualche problema deve istruire quella chiesa riprendere quella chiesa per la loro carnalità per la loro arroganza mancanza di fedeltà per quanto riguarda diversi aspetti della vita cristiana paolo parlava di questa chiesa alle altre chiese gioendo a motivo dell'opera chiaramente visibile nella vita di questa chiesa attraverso la loro fedeltà in mezzo alla persecuzione paolo manifesta qui il suo cuore è desideroso della crescita spirituale dei figli di dio è grato a dio per la crescita spirituale dei figli di dio ed è gioioso per la crescita spirituale dei figli di dio questo è quello che vediamo versetti che rivelano quanto la chiesa sia la testimonianza della gloria di dio la chiesa è la testimonianza dell'opera potente di dio della sua grazia della sua gloria e di questo paolo si vanta incoraggia quindi questa chiesa ringraziando dio per loro ringraziando dio per l'opera che stava facendo nella vita di questa chiesa ma dal versetto 5 fino al versetto 10 di cui parleremo questa sera paolo incoraggia in modo diverso potremmo anche dire in modo particolare paolo vedremo incoraggia questa chiesa in vista del giudizio di dio di questo parleremo incoraggiamento in vista del giudizio di dio in vista della venuta di cristo parla di questo tema in questo contesto con l'obiettivo di incoraggiare i tessalonicesi che stavano affrontando persecuzioni afflizioni faccio parlando pensate del giudizio di dio vedremo attraverso questi versetti prima cosa l'evidenza del giusto giudizio di dio l'evidenza del giusto giudizio di dio versetto 5 l'evidenza poi parleremo della descrizione la descrizione del giusto giudizio di dio dal versetto 6 al versetto 8 la descrizione del giusto giudizio di dio e poi il risultato le conseguenze del giusto giudizio di dio dal versetto 9 al 10 il risultato le conseguenze del giusto giudizio di dio dal versetto 9 al versetto 10 come ho detto paolo vuole incoraggiare i tessalonicesi che stavano affrontando la persecuzione e faccio parlando della venuta di cristo paolo non vuole rispondere alla loro curiosità riguardo al ritorno di cristo al futuro giudizio ma parla di questo tema come fai in altri contesti per incoraggiare per esortare questa chiesa a perseverare per avere una prospettiva diversa di quella sofferenza che stavano affrontando per poter guardare a quella persecuzione in modo totalmente diverso attraverso questi versetti vediamo in che modo paolo incoraggia questa chiesa iniziamo con il versetto 5 l'evidenza del giusto giudizio di dio l'evidenza del giusto giudizio di dio questo versetto 5 estrettamente legato a quello prima al versetto 4 continua infatti versetto 4 diciamo il versetto 4 scrive in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di dio a motivo della vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle affezioni che sopportate prova del giusto giudizio di dio paolo prosegue e dice prova del giusto giudizio di dio sta continuando quello che ha detto prima ciò che sta dicendo in questo versetto si lega a ciò che ha appena detto e dice prova del giusto giudizio di dio termine prova che potremmo tradurlo evidenza del giusto giudizio di dio oppure l'indicazione del giusto giudizio di dio paolo sta dicendo che la loro perseveranza e fiducia in mezzo quelle persecuzioni e affezioni era la prova la chiara indicazione che il giudizio di dio è giusto ora di quale giudizio sta parlando qui l'apostolo paolo nel contesto capiamo che si riferisce al futuro giudizio di dio non a quello presente ma al futuro giudizio di dio di questo parleremo dal versetto 6 al 10 la loro presente fedeltà in mezzo a quelle persecuzioni la loro perseveranza era la prova del giusto giudizio di dio futuro questo giudizio che riguarda sia i credenti perseguitati sia i persecutori dei credenti un giudizio che riguarda sia i credenti perseguitati sia i persecutori dei credenti in questa seconda parte del versetto 5 si parla del giudizio di dio relazione ai credenti è una prova del giusto giudizio di dio perché oppure così che siate considerati degni del regno di dio per il quale state anche soffrendo per il quale state proprio soffrendo cioè di cui ha parlato prima la loro perseveranza e fedeltà in mezzo a quelle persecuzioni afflizioni era una prova del giusto giudizio di dio perché dice siate considerati degni del regno di dio per il quale state soffrendo la loro perseveranza e fedeltà era la chiara testimonianza che sarebbero stati considerati degni del regno di dio questo giudizio di cui sta parlando giudizio in relazione ai credenti questo giusto giudizio nei confronti dei credenti considerati degni del regno non per i loro meriti paolo ha già evidenziato che deve ringraziare dio per loro quello che stavano vivendo la loro fedeltà era grazie a dio grazie alla sua opera e di conseguenza questa loro perseveranza e fedeltà era la prova evidente che erano figli di dio e di conseguenza la testimonianza di questo futuro giusto giudizio di dio un giudizio giusto evidenzia ciò per mostrare che era certo questo giudizio era certo questo giudizio nei loro confronti alla luce della loro perseveranza in mezzo a quella persecuzione era giusto questo giudizio vero dio avrebbe considerato loro degni del suo regno in virtù di cristo il tempo quindi del giusto giudizio futuro rivelerà che coloro che hanno sofferto per il vangelo fedelmente perseverando saranno riconosciuti degni del regno di dio perché parlare in questi termini vuole mostrare che la loro perseveranza in mezzo a quella grande persecuzione era importante avrebbe avuto un impatto eterno quelle sofferenze non erano insignificanti ma erano parte del piano di dio e nel piano di dio quella sofferenza e quella fedeltà nella sofferenza era la chiara testimonianza dell'opera di dio e la certezza che dio avrebbe giudicato giustamente ovvero avrebbe considerato loro degni del suo regno in altre parole quella loro fedeltà in mezzo alla persecuzione era la testimonianza della loro fede salvifica avevano una vera fede in cristo chi vive così in mezzo a quella persecuzione chi è disposto ciò ed è quindi la prova di quel giusto giudizio ovvero saranno considerati degni del suo regno per i loro ameniti no per la gratia di dio l'opera di dio che si manifesta come però attraverso la loro perseveranza questo sta scrivendo l'apostolo paolo per incoraggiare i tessalonicesi che stavano affrontando come abbiamo visto questa persecuzione questa afflizione la loro perseveranza fedeltà era la prova del giusto giudizio di dio dio che li considererà degni del suo regno ecco l'evidenza del giusto giudizio di dio in questo modo paolo incoraggia i tessalonicesi la loro vita cristiana in mezzo a quella circostanza era chiara prova che appartenevano a dio di conseguenza avevano la certezza in futuro di essere considerati degni del regno di dio perché perché dio è giusto passiamo ora al versetto 6 fino al versetto 8 la descrizione del giusto giudizio di dio ora descrive il giusto giudizio di dio qui descrive questo giudizio di cui ha parlato al versetto 5 e qui me lo conferma che si riferisce al futuro giudizio di dio all'avvenuto di cristo se notate al versetto 5 parla di questo giusto giudizio di dio al versetto 6 ora scrive poiché è giusto da parte di dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione questa è la stessa terminologia ha parlato di questo giusto giudizio di dio nei confronti dei figli di dio e ora parla del giusto giudizio di dio nei confronti invece dei non credenti poiché è giusto per dio letteralmente ripagare con afflizione coloro che vi affliggono dice è giusto per dio ripagare con afflizione coloro che vi affliggono questo è il giusto giudizio di dio futuro dio retribuirà con afflizione coloro che hanno perseguitato i suoi figli che hanno afflitto specificamente i tessalonicesi la sofferenza l'afflizione che stavano affrontando i tessalonicesi e subendo era la chiara testimonianza evidenza di questo giusto giudizio di dio nei confronti dei persecutori di questa chiesa l'afflizione quindi che stavano subendo aveva un limite nel piano di dio ci sarà un tempo in cui dio nella sua giustizia giudicherà e i non credenti persecutori saranno giudicati e retribuiti con afflizione questa è la sua terminologia aggiunge al versetto 7 ora parla dei suoi figli dei figli di dio dio giudicherà i non credenti con l'afflizione ma aggiunge qui e dare a voi dice versetto 7 dare a voi che siete afflitti riposo con noi riposo come a noi paolo silvano timotio e dare a voi che siete afflitti riposo dio che è giusto renderà afflizione a coloro che hanno afflitto i credenti e invece darà riposo darà riposo riposo dalla sofferenza e persecuzione agli afflitti ai testalonicesi qui evidenze che in futuro riceveranno questo riposo insieme a paolo silvano e timotio anche loro perseguitari paolo ora specifica quando avverrà ciò versetto 7 traduco letteralmente alla rivelazione del signore gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza ecco quando retribuirà con affezione coloro che affliggono la chiesa i credenti e quando darà riposo invece ai suoi figli alla rivelazione del signore gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza prima cosa dice alla rivelazione del signore gesù dal cielo qui sta parlando di un evento sopranaturale dio incarnato gesù che scenderà dal cielo sappiamo che dopo la sua risurrezione è sceso al padre al cielo scenderà dal cielo non solo aggiunge insieme agli angeli della sua potenza scenderà insieme agli angeli della sua potenza e aggiunge al versetto 8 in un fuoco fiammeggiante in un fuoco fiammeggiante Cristo verrà dal cielo in un fuoco fiammeggiante qui si riferisce proprio alla manifestazione della gloria di Cristo la sua maestà divina e il suo giudizio nell'antico testamento si parla di dio che appare l'angelo del signore in un fuoco esodo capitolo 3 versetto 2 il pruno ardente esodo 19 versetto 18 la gloria di dio che si manifesta con fuoco i credenti perseguitati riceveranno questo riposo l'ingresso nella gloria questo è quello che paolo dice sappiamo nello specifico ciò che accadrà in prima tessalonicesi capitolo 4 quando dal versetto 13 paolo appare del rapimento della chiesa ricordate la chiesa rapita incontrara gesù nell'aria i credenti perseguitati riceveranno questo riposo l'ingresso nella gloria ma il versetto 8 descrive il giudizio di dio nei confronti dei non credenti dei non credenti versetto 8 dice letteralmente facendo vendetta di coloro che non conoscono dio e di coloro che non obbediscono all'angelo del nostro signore paolo parla di questo giusto giudizio di dio dio è giusto nel giudicare versetto 6 accadrà ciò quando cristo tornerà quando cristo apparirà darà riposo ai suoi figli ai figli di dio ma farà vendetta di coloro che non conoscono dio e non obbediscono al vangelo alcuni dicono che qui si sta riferendo a due gruppi distinti chi non conosce dio è riferimento ai gentili e chi non obbedisce al vangelo è riferimento ai giudei però non sappiamo probabilmente riferisce in un stesso gruppo descritti in questo modo chi non conosce dio e chi non obbedisce al vangelo guardate attenzione qua parla di chi non conosce dio i romani 1 sappiamo che l'uomo conosce dio attraverso il creato l'uomo ha questa conoscenza quando parla di chi non conosce dio parla di una ignoranza responsabile romani 1 l'uomo conosce dio attraverso il creato i romani 2 sappiamo che dio ha messo la sua legge nel cuore dell'uomo l'uomo in coscienza sa di essere un peccatore ma l'uomo rigetta dio che conosce e di conseguenza non ha una conoscenza salvifica di dio perché rigetta il dio che conosce attraverso il creato per loro responsabilità quindi non conoscono dio e poi rigettano rigettano il vangelo non obbediscono al vangelo rigettano la rivelazione di dio in cristo gesù rigettano cristo ecco coloro giudicati da dio coloro che non conoscono dio e che rigettano il vangelo quindi è scritto questo giudizio ora parliamo al versetto 9 10 del risultato del giusto giudizio di dio il risultato le conseguenze del giusto giudizio di dio versetto 10 dice essi ovvero coloro che non conoscono dio non obbediscono al vangelo essi saranno puniti saranno puniti oppure potremmo tradurlo questo verbo saranno puniti oppure pagheranno pagheranno con la pena dell'eterna distruzione fuori dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza questa è la terminologia di Paolo saranno puniti con la pena dell'eterna distruzione prima cosa parla di questa pena puniti di eterna distruzione qui non si riferisce all'annichilimento ovvero alla cessazione dell'esistenza infatti parla di una eterna distruzione una distruzione che non ha fine qui parla di una punizione che avrà una durata illimitata una distruzione che non avrà fine aggiunge fuori dalla presenza del Signore lontani dalla presenza del Signore alcuni brani ci mostrano questo nei Vangeli in Matteo capitolo 7 per esempio in Matteo capitolo 7 seramone sul monte la conclusione Gesù dice il versetto 21 non chiunque mi dice Signore Signore entrerà nel Regno dei Cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che nei Cieli molti mi diranno in quel giorno Signore Signore non abbiamo noi profetizzato il nome tuo e il nome tuo cacciato demoni e fatto il nome tuo e molte opere potenti allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me malfattori allontanatevi lontani dalla sua gloria Matteo 8 12 diciamo dal versetto 11 io vi dico che molti verranno da oriente da occidente e si metteranno a tavola con Abramo Isacco Giacobbe nel Regno dei Cieli ma i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre di fuori là ci sarà pianto e stridoro di denti Matteo 22 versetto 13 Matteo 22 versetto 13 la parabola delle nozze allora il re disse ai servitori legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori lì sarà il pianto e lo stridor dei denti capitolo 25 versetto 30 parabola dei talenti termina così e quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori lì sarà il pianto e lo stridor dei denti fuori dalla presenza del Signore aggiunge lontani anche dalla gloria della sua potenza lontani anche dalla gloria della sua presenza in Luca capitolo 16 parabola ricco e Lazaro Luca 16 parabola che conosciamo versetto 24 questo uomo esclamò ricco padre Abramo abipetà di me manda Lazaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma Abramo disse figlio ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazaro similmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una grande voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là non passano non possano né di là si passi da noi questa separazione lontani dalla gloria della sua potenza quando parla qui di giudizio quali sono le conseguenze un eterno giudizio senza fine fuori dalla presenza di Cristo significa senza sollievo senza gioia senza pace senza misericordia non ci sarà nulla di tutto ciò ma un pianto e una continua sofferenza come abbiamo letto in Matteo questo è il giudizio nei confronti di coloro che non conoscono Dio servificamente che rigettono il Vangelo ma versetto 10 ora parla invece dei credenti allora giunge infatti quando viene riferimento a Cristo quando viene in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi ed essere ammirato in mezzo a tutti coloro che hanno creduto perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta prima cosa parla di Cristo quando verrà Cristo glorificato nei suoi santi Cristo glorificato nei suoi santi ovvero Cristo glorificato nella glorificazione dei suoi la gloria di Cristo manifestata con la glorificazione dei suoi in filippesi capitolo 3 paolo parla di questo di questa futura glorificazione capitolo 3 versetto 20 quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli da dove aspettiamo anche il salvatore Gesù Cristo il Signore che trasformerà il corpo della nostra umilazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa trasformerà il corpo della nostra umilazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria anche in prima Giovanni in prima Giovanni capitolo 3 prima Giovanni 3 versetto 2 carissimi ora siamo figli di Dio ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come gli è Cristo glorificato nei suoi santi non solo Cristo ammirato dai suoi santi Cristo sarà oggetto della loro ammirazione in questo evento futuro ammireranno Cristo che tornerà scenderà dal cielo ci sarà questa quindi futura glorificazione dei santi e di questa ammirazione loro si parteciperanno a questa gloriosa manifestazione di Cristo al suo ritorno glorioso coloro che hanno creduto al Vangelo che hanno risposto alla testimonianza di Cristo questa futura venuta di Cristo e glorificazione dei santi i quali parteciperanno a questa gloria Paolo sta incoraggiando i credenti che stavano affrontando questa persecuzione proprio considerando questo evento glorioso ricordando loro che parteciperanno con certezza a questa glorificazione futura da una parte parla di questa eterna distruzione che riguarda i non credenti lontani dalla presenza gloriosa di Cristo e dall'altra parte invece parla della futura glorificazione dei credenti i quali parteciperanno alla sua gloria ammireranno Cristo quando tornerà ecco in che modo Paolo incoraggia questa chiesa sono versetti preziosi che rivelano in che modo può una chiesa perseguitata a motivo della fede essere incoraggiata non solo ringraziando Dio per l'opera che stava compiendo loro ma anche parlando di questo giudizio futuro prima cosa l'evidenza del giusto giudizio di Dio la loro perseveranza e fedeltà in mezzo a quella persecuzione era una chiara indicazione del giusto giudizio di Dio futuro verso di loro ovvero considererà loro degni del regno di Dio considererà coloro che attualmente vivono per Cristo a costi quel che costi come degni del suo regno perché testimoni dell'opera sovrane di Dio nella loro vita quella difficoltà che si trasforma in una gioia in una certezza in una prova evidente che Dio ha operato così incoraggia i credenti non con una pacca sulla spalla anch'io sofferto non ti preoccupare ma evidenziando che avranno la certezza di essere parte di quel regno perché perché al presente vivono in quel regno al presente ripongono fiducia in Cristo costantemente nonostante le persecuzioni la loro fedeltà e una chiara testimonianza della loro appartenenza ad Dio poi descrive abbiamo visto questo giudizio afflizione a coloro che perseguitono i credenti e riposo invece ai credenti perseguitati e poi le conseguenze distruzione eterna degli empi e glorificazione dei santi davvero interessante vedere che Paolo parla di questo tema del giudizio divino del ritorno di Cristo che non è un tema astratto una teologia astratta semplicemente per chi è curioso quante volte i credenti sono curiosi vogliono sapere cosa accadrà senza considerare che la scrittura quando parla degli ultimi tempi in questo caso del giudizio ne parla in un contesto non semplice in mezzo alla persecuzione questa Chiesa che sta affrontando quell'afflizione perché è quello il contesto in cui parlare di questo giudizio futuro perché la loro sofferenza per amore di Cristo era la via che li avrebbe condotti alla glorificazione per giungere alla glorificazione il credente affronta alla sofferenza per amore di Cristo d'altronde Cristo ha sofferto Cristo si è umiliato ed è stato glorificato in Filippesi capitolo 2 Paolo parla di ciò la loro perseveranza nella sofferenza aveva quindi un senso cambia la prospettiva dei credenti di fronte a questa sofferenza totalmente cambia la prospettiva perché quella sofferenza si trasforma in una evidenza concreta della loro appartenenza a Dio e di questo loro giudizio di questo giudizio futuro che riguarderà proprio la loro glorificazione e poi evidenziare che coloro che stavano perseguitando questa chiesa sarebbero stati giudicati Dio è un giusto giudice e giudicherà con giustizia non ci sarà grazia non ci sarà misericordia non ci sarà pace non ci sarà consolazione per coloro che rigettono il Vangelo ma gioia per coloro invece che parteciperanno a questo futuro evento glorioso ritorno di Cristo ecco in che modo la parola di Dio incoraggia i credenti ad affrontare la sofferenza ecco in che modo possiamo essere noi incoraggiati alla fedeltà alla perseveranza quando soffriamo per l'amore di Cristo non attraverso meccanismi carnali quasi lamentandoci dove è Dio soffrire per l'amore di Cristo è infatti la testimonianza della potenza di Dio della sua grazia e dell'anticipazione della futura glorificazione alla venuta gloriosa di Cristo soffrire per l'amore di Cristo la testimonianza della potenza di Dio e l'anticipazione della futura glorificazione quando Cristo tornerà il credente il credente quindi può anche in mezzo a quella sofferenza gioire e affrontare quella sofferenza in modo completamente diverso prima a Tessano nel Cisi capitolo 1 versetto 6 voi siete divenuti imitatori nostri del Signore avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze con la gioia che dà lo Spirito Santo quante volte ci sono credenti che non comprendono com'è possibile questo che in mezzo alla sofferenza abbandonano la fede è chiaro che un credente che è stato trasformato dalla grazia di Dio manifesta questa opera divina attraverso la sua fede una fede salvifica che si manifesta nella perseveranza nella gioia nel rifugiarsi in Cristo e nell'attendere il ritorno di Cristo consapevoli che quella sofferenza vissuta con fedeltà è questa anticipazione di questa futura glorificazione questo dovrebbe quindi cambiare il modo in cui noi stessi guardiamo la sofferenza e quelle prove per l'amore di Cristo pronti con qualsiasi sofferenza per l'amore di Cristo consapevoli che quando ciò accade c'è una prova evidente chiara dell'opera di Dio fratelli questa è la Chiesa questi sono i riscepoli di Cristo questi sono i figli di Dio coloro che testimoniano costantemente dell'opera potente di Dio nella loro vita perché vivono in attesa della venuta gloriosa di Cristo consapevoli di questo giudizio di Dio un giudizio giusto è la sua giustizia che garantisce fratelli questa nostra futura glorificazione ed è la grazia di Dio che ci permette di partecipare e questa futura glorificazione e che ci permette di vivere al presente in mezzo a qualsiasi prova per amore di Cristo fiduciosi e perseveranti quale incoraggiamento anche per noi per qualsiasi cosa potrebbe accadere in futuro noi non sappiamo quello che accadrà sapere che quello che accadrà sarà la testimonianza dell'opera di Dio e termino leggendo quello che Paolo scrisse ai filippesi anche loro che stavano soffrendo per la loro fede scrisse qualcosa di simile ed incoraggiante per loro Filippesi capitolo 1 versetto 27 fino alla fine del capitolo Filippesi 1 27 soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo affinché sia che io venga a vedervi sia che io resti lontano senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo per nulla spaventati dagli avversari perché questo per loro è una prova evidente di perdizione ma per voi di salvezza e ciò da parte di Dio potremmo chiederci perché risponde anche a questo perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui ma anche di soffrire per Lui sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo questo è il Vangelo di Cristo Gesù questa è la Chiesa di Cristo questo significa vivere in modo conforme al Vangelo di Cristo Gesù lottare fedelmente stare uniti come Chiesa non essere spaventati ma anzi quella persecuzione la testimonianza dell'opera gloriosa di Cristo nella nostra vita perché perché non solo ci ha donato la fede ma anche ci ha donato la grazia di soffrire per il suo nome questo è il messaggio biblico e tutto questo ci incoraggia a perseverare fiduciosi in Cristo gioiosi in Lui in attesa di questo futuro ritorno di Cristo e di questa futura nostra glorificazione di questo e di questa è il messaggio di questo